Amici di D-Day, siamo in Kenwood Electronics Italia con Alberto Petroni, private manager di GBL. Abbiamo tra le mani una delle ultime novità appena presentate da GBL a Las Vegas. È un microspeaker, una sorta di disco volante, anche lui, quindi piccolissimo a tenere in tasca, per far suonare player portatili. Alberto cosa ci racconti di questo prodotto? Sì, come hai detto tu, è il prodotto più recente, introdotto proprio da poche settimane da GBL. Si tratta del on-tour micro, quindi sempre serie on-tour, quindi speaker portatili, e micro, chiaramente, perché è la versione più compatta della serie, è il figlio piccolo, diciamo così. Piccolo solo nelle dimensioni, ma non nella qualità sonora. Infatti, provandolo, per chi lo può ascoltare dal vivo, è veramente impressionante come in uno spazio così ridotto si riesca a riprodurre un suono assolutamente di qualità. Massima portabilità, perché funziona con delle pili ricaricabili integrate. Le pile si ricaricano tramite l'ingresso USB, quindi collegandolo a un computer o anche un classico alimentatore USB. Lo collego a qualsiasi dispositivo, dotato di uscita cuffie, quindi tramite il classico jack 3.5. La cosa interessante è che abbiamo anche un'uscita audio, quindi teoricamente posso andare a collegare in serie un numero teoricamente infinito di on-tour micro, per fare una sorta di sistema, esatto, di catena audio. Quindi c'è una sorta di funzionalità social del mio dispositivo, quindi posso trovarmi con diversi amici, ognuno dotato del suo on-tour micro e condividiamo la musica direttamente da un unico telefonino. Quando siamo in viaggio, questo è come dire, idealmente l'utilizzo di questo prodotto. Dimensioni piccole, prezzo anche molto molto basso. Sì, sono 39 euro, quindi assolutamente un prezzo interessante. Disponibile solo in bianco o anche in altri colori? È disponibile attualmente in due colorazioni, bianco che vediamo e colorazione orange e arriva anche una colorazione black fra qualche mese. Ok, perfetto, grazie di tutto, ciao a tutti.